Andiamo a rivedere il video live NASA dell'eclisse anulare del mese scorso di ottobre. Molti hanno fatto diverse osservazioni, come questa, dove si vede chiaramente che uno è il riflesso causato dalla fotocamera, mentre l'altro ha l'aria di essere un riflesso diretto come se arrivasse una proiezione da dietro uno schermo, che qui è rappresentato da un tovagliolo di carta colorata. Chi ha seguito i molteplici video sull'eclissi ha capito che esistono troppe e tante anomalie se ci riferiamo alla narrativa ufficiale. A disposizione avete molte voci attraverso indice alfabetico, scorrendo fino ai crissi o ecclisse. Ma andiamo a vedere cosa è successo attraverso il video live della NASA, di cui trovate il link originale nella descrizione. Non mi risulta che la NASA abbia fornito qualche spiegazione ufficiale. Sappiamo che la NASA, in occasione di quell'evento, aveva inviato un razzo per studiare l'atmosfera e che la missione missilistica della NASA lancerà tre razzi durante le crisse lunare del 2023 in ottobre per studiare come l'improvviso calo della luce solare influisce sulla nostra atmosfera superiore. Facciamo finta che sapendo a che distanza dovrebbe trovarsi il sole, non penso ci sia alcuna influenza perché se durante l'inverno, stagione in cui dovremmo essere più vicini, c'è più freddo, non trovo alcun senso per un esperimento del genere, ma è il mio pensiero. I più audaci hanno già visto che i Veda giustificavano l'eclissi per i due corpi celesti Rau e Ketu, due corpi opachi che si frappongono fra il sole e la terra o fra la luna e la terra. Ma torniamo al video live NASA e osserviamo questa corona interna. Avete visto il bagliore? Andiamo a rivederlo ma metto in stop. Vedete che c'è un'area più scura da dove è scaturita l'esplosione? Questa non è la luna perché secondo la NASA questa esterna è l'ombra della luna. Avete visto? Come giustifica questo la NASA? Probabilmente sapevano qualcosa e hanno inviato i razzi lassù per cercare di comprendere cosa succedeva. Osservate bene da dove scaturisce la fiammata su questo fermo immagine. Se il sole è locale, come affermano i liberi ricercatori della terra piana, ovvero più vicino e che le crisi accadono come spiegano i veda, questa diventa una bella spiegazione perché potrebbe essere che uno dei razzi si trova sopra Ketu, un ulteriore disco più piccolo e più in basso dell'ombra della luna, altro disco, Rahu. Non voglio aggiungere altro, ma le crisi di luna o, come in questo caso, di sole, di certo non corrisponde alla narrativa ufficiale. Punto. Vi ricordo l'inimitabile indice alfabetico per le vostre libere ricerche. Il libro Il Risveglio, la piattaforma Telegram Canal 104 Plus e semplicemente il valore di un buon caffè per rintemprare le energie delle ricerche. Grazie di aver guardato.